e ciao a tutti ragazzi benvenuti bentornati su every eye.it nuova diretta questa volta l'avevamo annunciato si tratta di un q&a che era un po che non facevamo e abbiamo un po un problema perché sono finiti i giochi di cui parlare è uscito tutto ragazzi guardiamo in faccia la realtà però intanto francesco vi saluta ciao a tutti non capisco come tu faccia a definirlo un problema sono finiti i giochi finalmente bisogna dire non ne potevamo più siamo stati sommersi no no è stata una bella stagione bella densa piena di tanti capolavori quindi però sì in effetti le domande le curiosità sui titoli in arrivo diminuiranno drasticamente perché non ci sono titoli in arrivo in questo senso aspettiamo l'inizio del nuovo mese con i bugie x e la playstation experience magari arriva qualche sorpresa qualche soddisfazione esatto poi c'era questa c'era questa paura un po che questa questo avvio di generazione sarebbe stato terribile mi ricordo i primi mesi appena lanciati le console si piangeva alla miseria il disastro alla fine direi che non è che sia andata poi così male mi sembra che comunque le nuove console stiano facendo vedere alla fine delle cose interessanti magari dal punto di vista delle esclusive un po meno però 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 anche lì con delle eccezioni tanto per cominciare soprattutto per quello che riguarda xbox one a dire il vero con le esclusive alla fine ha preso un po di distanze e poi comunque in generale ci sono stati anche dei multi piattaforma che su console next gen comunque hanno fatto vedere delle cose che effettivamente sulla vecchia non sarebbe sulla vecchia generazione non sarebbero state possibili quindi mi sembra una via di generazione piuttosto normale cioè poi è sempre normale che perché arrivino i grandi prodotti ci vogliono quei tre anni quanti se tre anche quattro anni esatto anche perché appunto nello sviluppo di un titolo più o meno adesso si attesta attorno a quelle a quelle tempistiche lì quindi magari adesso arrivano giochi che sono stati progettati ancora sono stati pensati sono nati ancora quando c'erano le vecchie console e quindi è chiaro che sia un ancora un anno di transizione magari fa qualche tempo arriverà qualcosa di solido comunque allora io vi invito a tutti voi che siete in chat a farci delle domande su qualsiasi cosa titoli che abbiamo provato titoli che sono già usciti insomma se avete qualsiasi curiosità andate pure qualche duna in realtà qualche domanda in realtà c'era già ad esempio c'era pedro 83 che ci chiedeva sword art online lost song uscirà anche da noi è un bel mistero sword art online è rimasto per lungo tempo confinato in terra d'oriente però è arrivato hollow fragment esattamente pochi mesi fa mi sembra meno di due mesi fa sicuramente che si è rivelato gradito anche dal pubblico orientale occidentale che comincia sempre di più a masticare anche produzioni nipponiche e ancora non ci sono dati certi per il sequel però la speranza è quella namco bandai sta portando veramente tutto è namco bandai sta portando veramente tutto quindi è probabile che possa arrivare anche quello anche quello allora poi c'era un'altra domanda sulla news che chiedeva della possibile veridicità dell'uscita fissata a dicembre da amazon di kingdom hearts 3 veridicità assolutamente no ragazzi no no kingdom hearts 3 non si sa neanche se esce nel 2015 potrebbe ma comunque forse forse era il 31 dicembre dell'anno prossimo esatto erano stato erano stati molto vaghi anche su una possibilità che uscisse nel 2015 l'unica cosa che è sicura è che il titolo sia in sviluppo ma da lì in avanti poi di sicuro non c'è più assolutamente niente quindi no quella data è fasulla tarocca e kingdom hearts 3 non esce a dicembre state allora intanto c'è davide che dice che sta stillando le uscite di dicembre c'è parecchia roba e io voglio solo mettermi le mani nei capelli o nella barba visto che ormai sta crescendo più quella spero che non sia robaccia vediamo un po che che cosa esce a dicembre davide dacci un po di indizi qui sulla chat intanto c'è tanta gente che chiede che cellulare ho strano chi lo sa chi mi segue su facebook sa che in questi giorni ho cambiato telefono sto provando lo z3 di sony volete vederlo questo questa cosa mistica ecco e vediamolo e guarda la com'è carino che in realtà mi è stato mandato solo per provare l'app sing star l'app di sing star perché il telefono adesso può funzionare da microfono per sing star devo dire che ieri ho giocato ho canticchiato e ho trovato un titolo molto cambiato da quanto me lo da come me lo ricordavo devo dire che per essere per il genere di riferimento sony sembra aver fatto un bel lavoro magari qualche cosa ci scriverò comunque allora che cos'altro ci chiedono chi è il fortunato che va a las vegas ci chiede xaniki 88 nessuno nessuno perché la stampa europea non va alla playstation experience americana fa un evento qualche giorno prima della playstation experience ovviamente super segretato in cui si potranno giocare tutti i titoli che saranno presenti a las vegas e si potranno vedere in anteprima anche questi annunci famigerati di cui non si sa ancora niente ma c'è molta molta attesa quindi il tre il quattro il cinque di dicembre io sarò a londra sicuramente faremo un live in dipendenza degli embarghi magari succederà il giorno dopo la playstation experience diciamo così e vi racconteremo tutto quanto così poi voi potete farci tutte le domande bene poi jaspelle ma il club di pes può contrastare fifa e ultimate team bella domanda nel senso è molto promettente conta che vabbè lo stai chiedendo a due persone che proprio il calcio zero però abbiamo seguito un po tutta la vicenda e anche delle analisi dell'ottimo alessandro truffolo e insomma sicuramente è fatto bene questo questo my club per quello che per quello che sembra contrastare fifa e ultimate team non è facile perché fifa e ultimate team ha una diffusione ormai altissima al punto che ci sono persone che giocano più a ultimate team che a fifa in formato classico ormai e vediamo anche sul nostro canale youtube ad esempio se vogliamo usarlo come piccola fonte di feedback che i video sul sulle tattiche degli ultimi team hanno un successo notevole quindi insomma non sarà facile scalzarlo diciamo che le basi potrebbe averle gettate ma insomma è una di quelle operazioni non facili perché gli ultimi team funziona molto molto bene e ha ormai un bel periodo di vantaggio insomma è arrivato prima quindi ha tanta diffusione non sarà non sarà facile però quest'anno insomma di base c'è sempre c'è anche il gameplay che quest'anno sembra i giocatori appassionati di calcio videoludico sembrano gradire molto quello di pass e quindi vediamo bisognerà vedere appunto sulla lunga distanza intanto davide ci ricorda fra le altre cose che esce kingdom arts 2.5 hd remix che abbiamo anche qui da recensire poi che cos'altro esce the crew e quello andrea te lo mollo e poi esce e poi esce altra roba strana comunque passando ad altro visto che l'anno sta per finire il grosso è uscito è ora di tirare le somme i vostri game of the year è quello che vi ha deluso di più inoltre le aspettative per il prossimo anno la domanda di mister sandman u allora game of the year direi dragon age inquisition ovviamente stiamo parlando a titolo personale secondo classificato alien isolation che era il game of the year fino a quando non è uscito dragon age però sono quasi a pari merito considerati considerato che sono due giochi molto diversi tra loro li possiamo quasi mettere a pari merito però se proprio ne devo dare uno lo do a dragon age inquisition clamoroso sono giocateci tra l'altro ricevo spesso messaggi su facebook di gente che mi dice ho iniziato a giocarci e mi sto divertendo molto quindi mi fa piacere che alla fine sia stato ben recepito mentre invece la delusione ma sunset overdrive è stata un po una delusione per me insomma se avete letto la mia recensione viene siete anche resi conto mi aspettavo che venisse sfruttata meglio un'idea di base che ho trovato molto funzionale nel senso che i controlli e il modo di padroneggiarli mi sono piaciuti tanto e invece mi sono piaciuti molto meno i contenuti la storia la trama che ho trovato assolutamente superficiale bene la delusione personale per me resta si restiamo sempre in ambito free roaming ma cambiamo sponda io la do a infamous che non mi ha entusiasmato proprio per niente mi ha lasciato molto molto indifferente mentre il game of the year per me resta ancora dark souls 2 devo ancora giocare far cry devo addentrarmi un po di più dentro unity ma non penso che le cose riusciranno a cambiare ovviamente stiamo parlando di preferenze delusioni personali poi quando ci sarà il momento di fare di dare i premi allora interverranno le altre dinamiche ci riuniremo in redazione faremo un bel sondaggio e poi io picchiero a tutti e prenderò ragione io funziona così di solito poi davide sempre in tema ci dice tra le delusioni dell'anno possiamo mettere anche titanfall ma allora io titanfall di per sé non lo metterei in tra le delusioni dell'anno metterei tra le delusioni dell'anno quello che è successo dopo cioè insomma il fatto che se c'era un difetto di titanfall che era stato già riconosciuto sin dai tempi della primissima recensione era proprio il fatto che sarebbe potuto essere un po più generoso con i contenuti cosa che non era si sperava conseguentemente che contenuti arrivassero poi gratuitamente effettivamente non si può dire che respawn non abbia distribuito degli update gratuiti anche con con discreti contenuti però non ha sufficienza e devo dire che anche a me personalmente che nel primo periodo ci ha giocato tantissimo poi il gioco inevitabilmente è un po sceso ecco anche perché i pacchetti di mappe tra l'altro poi sono stati piuttosto deludenti quasi tutti cioè c'era spesso una mappa molto bella e le altre no quindi insomma più il pollice giù va al supporto post lancio non tanto al gioco intanto c'è named starling è tornato è tornato starling ci sei mancato non ti diamo il mod però dai siamo contenti che tu sia di nuovo qui con noi tornando alle domande c'era dx87 che cosa ne pensate di overwatch e del fatto che blizzard si sia inoltrata nel mondo degli fps rispondo io che l'ho anche giocato poi magari anche andrea dice cosa ne pensa avendolo visto a distanza il progetto è sicuramente coraggioso diciamo così blizzard ha deciso di tornare con una nuova ep e di proporre finalmente una nuova ep che sia completamente scollegata da tutto l'immaginario che ha saputo creare in questi anni mentre airstone che pure era nuovo ma comunque si affacciava sullo stesso universo di warcraft era appunto qualcosa che pescava a piene mani dalla tradizione questo ha un immaginario tutto nuovo quindi gran coraggio gran coraggio anche per la scelta del genere si sottolinea ancora una volta la volontà di puntare sul multiplayer in questo caso anche sul multiplayer un po competitivo in realtà a metà una formula di squadra ma competitiva che quindi assomiglia a quella dei mova in buona sostanza anche se poi questo non spara tutto squadre devo dire che quando l'ho sentito sono rimasto ho storto un po la bocca perché ho detto ma riuscirà blizzard poi andare ad andarsi a prendere quel settore che è copertissimo ancora e in maniera più che dignitosa team fortress c'è stato lo doubt che ci sia vicino che ha avuto un piccolo guizzo ma non ha tolto di mezzo il colosso di valve e una volta che ci si mette le mani sopra però si capisce che blizzard fa veramente le cose per bene che il bilanciamento è molto attento che la varietà legata agli stili dei personaggi è qualcosa di mai visto in un altro titolo del genere quindi per me thumbs up pollice in su molto bene poi ci chiedono relativamente ai dlc di alien isolation ma allora ne sono usciti due fino adesso che sono già compresi per chi ha comprato l'edizione speciale e diciamocelo onestamente fanno tutti e due un po schifo sono una merda durano 15 minuti l'uno e non ci hanno neanche un briciolo della tensione che c'è nelle scene migliori dell'avventura il che non fa ben sperare per gli eventuali futuri credo che poi ce ne sia ce ne saranno anche futuri insomma però per adesso sono equipaggio sacrificabile unica supersite ragazzi lasciate proprio stare cioè anche i soldi dell'edizione speciale potete risparmiarveli se lo dovete ancora prendere prendetevi la normalissima che tanto il gioco dura pure tanto quindi da godere ce n'è lasciate stare dlc che insomma no no proprio allora un paio di domande vado veloce c'è più purè purè di melograno che saluto perché è la prima volta che vedo intervenire in chat e ringrazio anche per la domanda che ci chiede un consiglio su un controller da comprare per pc xbox one o playstation 4 devo dire quello playstation 4 è facile da connettere però ancora il controller dell'xbox one cablato o quello microsoft appositamente pubblicato distribuito per pc è ancora la soluzione migliore in termini di compatibilità quindi direi quello lì anche perché il prezzo mi sembra un po' minore doom 4 si vedrà qualcosa nel 2015 che dice andre a doom 4 capito nel 2004 si vedrà qualcosa del 2015 ho detto besti cazzi cioè alla faccia di interstellar allora sì beh dai vedere qualcosa sicuramente sì no 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 certo l'uscita non ne dubito proprio in maniera assoluta no vedere qualcosa sì è probabile che insomma almeno un po' di gameplay le primissime le primissime cose speriamo bene insomma che non facciano un altro casino come hanno fatto con il 3 allora poi ci chiedono su playstation vita ci sono recensioni di un quarto god of war si sa niente no non si sa niente sembra che santa monica stia lavorando anche su uno nuovo ep però sicuramente sta lavorando per me sta lavorando anche a un altro god of war e la playstation experience potrebbe essere proprio l'occasione giusta per parlarne di uno o dell'altro su vita ci sono recensioni in vista oddio così no mi sembra mi sembra di no per il momento potrebbe arrivare un invisimo ma vabbè non penso che sia molto interessante per certi per tutti quanti magari qualcuno mi interessa poi che cos'altro sempre alien isolation sapete nulla della nuova patch appena uscita combina disastri come la precedente no io non so assolutamente niente nel senso che dopo averlo recensito l'ho giocato un'altra volta ma subito in rapida successione e quindi non ho fatto in tempo a vedere quest'ultima onestamente non non ho idea di cosa di cosa porti di nuovo ray phoenix che è un nome che vedo non molto spesso che quindi ci tengo anche a ringraziare anche lui per le domande ci chiede riguardo alle prossime espansioni di destiny includeranno anche saturno non nel breve termine si vocifera che una nuova ambientazione sarà aggiunta a settembre quando uscirà comet che sarà il primo dlc grosso prima proprio espansione vera e propria e pare però che si parli di una nave dell'interno di una nave che potrebbe essere il viaggiatore stesso però non ci sono conferme ci saranno altri cambi nella vostra redazione livello personale speriamo di no ci dice starling no speriamo di no anche noi cioè se non succede nulla no la situazione è abbastanza stabile e si va avanti così ci troviamo bene faccio una piccola dichiarazione d'amore ad andrea andrea sono innamorato di te non lasciarmi mai cuore non ci penso neanche da dostar che anche questo mi sembra un utente nuovo ragazzi io non ho né una tv né un monitor vorrei cominciare a videogiocare con un prezzo contenuto su console current gen o su pc budget circa 700 euro e allora se non hai monitor con un budget di 700 euro purtroppo non ci fa il pc più monitor secondo me che dici tu andrea si non è proprio il top non è però voluto mettiamola così secondo me è meglio investire su una cosa sola a quel punto esatto quindi si conviene console più tv è console tv probabilmente con poi dipende che grande vuoi la tv però una tv stiamo parlando di una trentina di pollice al massimo ecco non eccezionale la trovi a 300 e 400 di console ci stai dentro perché colpiti rischi di fare delle cioè nel senso 700 euro andrebbero bene ma se li spendessi solo per il pc se spendi 700 euro per pc più monitor considerato che un monitor appena buono da 24 ti viene a costare almeno 150 euro stai proprio al super risparmio almeno 200 diciamo 500 550 per il pc sei proprio un po tirato quindi a questo punto allora una console next gen un sonno sei più tranquillo sei più tranquillo riu ci chiede sempre su overwatch i personaggi facevano parte di titan il gioco cancellato dalla blizzard non credo si dice che in overwatch ci siano degli elementi che avrebbero dovuto far parte del gameplay di titan ma non so se lo stile personaggi fanno parte di quella di quegli aspetti diciamo traslati dal vecchio al nuovo progetto nel frattempo taneli si sta cimentando con l'italiano taneli congratulations for your italian is getting really better so we're really happy with that so english please say staneli taneli if you have any questions write them and we'll answer you in english of course fraschi invece una al bgtc che mi chiede se ho provato l'ultimo dlc di battlefield non l'ho provato però la recensione dovrebbe essere addirittura d'arrivo lo farà su pc il nostro alessandro agostines far cry 4 quali sono i livelli di difficoltà e come vengono gestiti allora sono quattro mi pare o sono tre porca miseria non mi ricordo più sì perché non ci ho smanettato sicuramente sì forse sono tre e poi il quarto si sblocca può darsi insomma sono tre o quattro cambiamo molto il gioco comunque parlando di differenze proprio io l'ho provato sì per adesso l'ho provato facile medio difficile cambia molto c'è una bella differenza a livello di gameplay sul anche proprio sull'aggressività insomma del delle guardie agli accampamenti e anche poi nelle durante le missioni quindi mi sembra che sia stato fatto un buon lavoro nel bilanciare i vari livelli difficoltà anche se non mi ricordo se sono tre o quattro però comunque diciamo che si adatta a molti a molti tipi di giocatori diversi lo metti a semplice è proprio quasi guidato lo metti a medio c'è una sfida discreta lo metti a difficile ti devi impegnare insomma ma era già stato fatto un buon lavoro con il tre in questo senso è rimasto più o meno lo stesso via esatto poi sapete dirci qualcosa in più di overwatch secondo voi potrà rinnovare adeguatamente beh il genere secondo me sì lo potrà rinnovare abbastanza proprio perché adotta un approccio molto particolare in cui è possibile all'interno di diversi di precisi spawn point proprio cambiare anche i personaggi tutti possono cambiare il personaggio nel corso della partita quindi le squadre devono avere devono adattarsi alle varie situazioni dimostrare una bella mobilità una capacità di adattamento un po superiore rispetto a quella che magari c'è in titoli come team fortress e secondo me è proprio la strada giusta blizzard è andata esattamente a prendere un genere ma ha trovato delle piccole variazioni come ha fatto con heroes of the storm per i moba che gli permettono di avere un sapore diverso passerotto mi chiede se sono andato a vedere il concerto di metallica ale purtroppo no perché avevo da scrivere avevo un mal di testa allucinante perché gli annunci erano tanti quindi sono rimasto in camera a fare gli articoli per pubblicarli pensate quante bravo francesco poteva fare head banging con i suoi capelli lunghissimi o con la barba con la barba e invece nulla è stata scrivere 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 quella barba era difficile perché ero ancora all'inizio del no shave november quindi vabbè ma ti ci versi sopra della birra e vedi che migliora tutto vedi che migliora ascoltami mister sunman chiede se ci è piaciuto interstellar io non l'ho visto a te ti è concesso tipo di dire un monosillabo ma non di spoilerare ti è piaciuto sì no puoi dire e sì no cioè metà del film sì cioè una parte tolgo le tolgo le cucchiette una parte di ciò di cui tratta il film sì e l'altra parte no finché tutta la parte relativa all'esplorazione spaziale molto perché comunque viene reso questo senso dell'ignoto la parte invece quella un po più soprannaturale così è quella no francesco finito basta hai finito sì ho finito perfetto probabile data di uscita di dark souls 2 versione next gen ma chi l'ha detto esce una versione io non so nulla di dark non lo so contate i mesi del 2015 allora 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 fossetti mi ha lasciato per andrea dice in starling e ma il rapporto fra me andrea è consolidato ci sentiamo tutti i giorni signate tu non viene non sei venuto più avere gli streaming io pensavo mi avessi mollato ray phoenix torna su destiny vedendo un vecchio video diceva che ci sarebbe stato saturno in realtà vedendo vecchi video dicevano che ci sarebbe stato tutto il sistema solare quindi ce l'aspettiamo sicuramente probabilmente in quella è quello che viene definito destiny 2 che è una roba che ha fatto scalpore in realtà il team aveva sempre detto che ogni due anni sarebbe uscita un pacchetto paragonabile contenuti a quelli di un gioco nuovo quindi probabilmente fra due anni in effetti vedremo altri quattro pianeti o quattro location andrea tu che giochi a heroes of the storm cosa ne pensi rispetto a lol allora mi piace molto heroes of the storm anche perché l'ho mi aveva un po stancato ho fatto dei periodi in cui ci giocavo tantissimo e quindi mi ero arrivato un po ad esserne pieno onestamente quindi è un è differente non è la stessa cosa però tatticamente è comunque molto interessante magari ci vuole un po di più per scoprirlo però è molto interessante soprattutto adesso che hanno aperto molto la fase che credo ancora sia alfa sì sì no è ancora alfa però hanno aperto molto gli accessi e quindi ci sono sempre due milioni e mezzo tre milioni di persone collegate o comunque quasi sempre quindi sta anche avendo un buon riscontro adesso che c'è che c'è tanta gente che gioca si cominciano a trovare anche team molto forti e quindi anche semplicemente col matchmaking sta diventando dura giocare da soli infatti infatti ultimamente gioco sempre con persone che conosco e mi sto divertendo moltissimo quindi per adesso il mio mio parere è molto positivo differente appunto da da lol meno individuale molto più team based anche perché con i livelli divisi tra il team e la necessità di attivare per forza i mercenari sulla mappa e tutte le varie funzioni delle mappe insomma lavoro di squadra molto molto forte e molto molta meno possibilità di brillare nell'individualismo che ad alcuni può dar fastidio perché c'è meno skill personale forse ma c'è tanta skill di gruppo quindi a me piace allora elena 884 che è sicuramente nuova qui quindi saluto benvenuta grazie per le domande ciao ragazzi volevo sapere se dragon age inquisition è adatto anche ai neofiti di gdr oppure se è molto complesso e dispersivo lascio a te allora una domanda soprattutto sul finale poi aggiungi una cosa che mi fa ricredere in parte sulla risposta che ti stavo per dare allora sicuramente è un gdr molto adatto ai neofiti perché propone un sistema di combattimento estremamente malleabile quindi lo puoi giocare più o meno come un action anche se poi in realtà ci sono c'è una base c'è una base party based e quindi quella rimane però lo puoi giocare quasi come un action e averlo in formato molto semplice oppure puoi prenderlo più strategicamente quindi nel caso di un neofita lo gioca action la cosa bella è che il sistema di il livello di difficoltà lo puoi cambiare in qualunque momento durante il gameplay quindi puoi anche prenderla come una curva d'apprendimento te lo cominci a facile poi se vedi che è troppo facile lo sposti a medio lo metti a difficile vedi che è troppo torni indietro insomma puoi cambiare quando vuoi durante la tua partita quindi anche questo ti aiuta a gestirtelo mentre giochi per quanto riguarda il dispersivo ecco allora dispersivo di per sé no però tantissimi contenuti e dura molto quindi magari una persona abituata a giochi più brevi di fronte ad un gioco così può ad un certo punto scoraggiarsi mettiamola mettiamola così va anche detto che hanno diviso molto bene i contenuti quindi rintracciare qual è la campagna principale cosa bisogna fare per finirla si capisce e quella la si può finire in una trentina di ore che sono tante comunque sicuramente quindi da quel punto di vista dal punto di vista della molle sicuramente è tosto magari per una persona abituata a giochi da 10 15 ore come sono di solito i videogiochi però accessibile altrettanto e rimane sempre consigliatissimo comunque va bene allora vado un po veloce perché se no restiamo indietro che cosa ne pensate delle varie false notizie che girano periodicamente periodicamente sull'annuncio di fallout 4 e poi vengono sempre smentite bene pensiamo che un titolo così atteso come fallout 4 genera per forza un livello d'attesa che poi sfocia nel morboso che il titolo sia in sviluppo penso che sia o comunque nelle menti del team di sviluppo penso che sia pacifico vedremo tanti dicono ai vga potrebbe essere possibile cosa ne pensate della mancanza di nudità in realtà di figa nei videogiochi il mondo non è ancora pronto per accettare le teorie di freud di freud sulless quanto per i videogiochi named glissiamo un attimo su questo ma in realtà in realtà le cose stanno cambiando leggermente è vero che sul per quanto riguarda le cioè le tematiche legate al sesso videogiochi non è che facciano molto siamo in effetti un po indietro tutte le volte c'è una scena un po' così esce con una notizia come se fosse a chissà che cosa in realtà nel cinema insomma è cosa stocanata nella letteratura la rappresentazione del sesso anche in maniera alle volte molto molto diretta molto molto brutale e c'è da aspettare videogiochi è un medium abbastanza giovane ancora e in effetti non penso che sia pienamente maturo soprattutto in tempi in cui neppure l'utenza e gli utilizzatori finale di videogiochi hanno dimostrato di essere come posso dire sereni nell'affrontare la questione perché tutta tutte le robe legate al sessismo che adesso sembrano addirittura prevalere di fronte alla critica del prodotto mi sembrano un po eccessive ragazzi leggevo del videogioco di game of thrones ci chiede tara 73 promette bene secondo voi ma insomma lo sviluppa sicuramente telltale ha un bel a un bel pedigree ha anche fatto vedere delle cose magari meno belle perché ad esempio come si chiama quello di orca vacca l'altro che hanno fatto insomma quello con big be wolf come protagonista wolf among us wolf among us ha avuto proprio degli alti e bassi piuttosto forti sicuramente più di the walking dead e comunque anche la seconda stagione di the walking dead insomma ha avuto i suoi momenti di stanca quindi insomma speriamo speriamo di certo il background si presta bene secondo me a quel tipo a quel tipo di gioco basato su fortemente su dialoghi e su avvenimenti bisogna vedere poi la storia ecco che storia viene scritta perché credo di aver ormai intuito che non che non venga utilizzata la storia dei libri anche perché l'abbiamo già letta l'abbiamo già vista nella serie tv ne abbiamo le palle piene e sarebbe anche ora che la che la che scrivesse sto finale ma questo sfogo personale esatto le palle piene ciccione maledetto smettila di andare ai convegni di whisky e di cervo fritto e scrivi sti cazzo di libri e a parte questo chiaramente bisogna bisognerà valutare la qualità della storia che sarà fondamentale per capire però insomma aspettiamo e vediamo potrebbe essere un progetto interessante allora ubisoft rappresenta la playstation experience secondo voi faranno vedere qualcosa di assolutamente da un gradato all'uscita e da un scalato a 900 p perché dopo la presentazione il presidente di ubisoft inciamperà in una valigetta piena di soldi marchiata microsoft no ragazzi lo sapete che di tanto in tanto le gli accordi commerciali delle software house delle terze parti vanno in una direzione piuttosto che in un'altra è inevitabile questa cosa ubisoft più vicina a playstation con far cry e più è stata più vicina invece xbox con assassin creed succede io non penso io spero che ubisoft abbia imparato sono un sognatore lo so abbia imparato un po dalle ultime questioni dalle ultime cose che sono successe e quindi anche in presenza di accordi commerciali con una delle due parti voglia decidere di rispettare anche l'utenza dell'altra parte fossetti arriverà un monte su di te che balli da parte mia ne sei consapevole vero e guarda se tu ci avessi seguito anche negli altri live avresti molto più materiale perché ogni tanto il ballo delle partnership così poi c'è stato il ballo dell'embargo ricordiamo che annunci bomba vi aspettate il prossimo futuro io spero tanto in delle nuove ip ragazzi e in dishonored 2 bella bella risposta bella risposta merlino 89 salve ragazzi siete fantastici complimenti per le dirette no grazie a voi noi ti ringraziamo per i complimenti ma grazie a voi perché ci seguite perché ci date supporto e anzi grazie perché anche tu hai deciso di intervenire esiste una guida strategica per dragon age inquisition lo sai tu andre allora no non lo so aspetta stavo dicendo una cazzata perché mi stavo confondendo con quella di unity perché quella di unity l'ho anche l'ho anche vista ed è fatta molto bene posso controllare vai controllare così poi rispondiamo allora vi dispiace se faccio scorro giù veloce se mi sono perso qualcosa rifate le domande perché se no ci perdiamo cyberpunk 2077 star wars 13 13 13 13 13 13 se ne è andato via adesso c'è star wars battlefront 13 13 lo sviluppo purtroppo è stato interrotto ma fra i due io voto per cyberpunk si c'è allora fermi tutti la guida di dragon age c'è assolutamente forse un po in ritardo perché doveva uscire il 21 novembre ma non è ancora uscita quindi insomma controllate a chi interessa può controllare gli store online perché mi sembra in teoria deve essere oggi il giorno d'uscita ma mi sembra che ancora non sia disponibile per l'acquisto quindi vuol dire che magari c'è stato qualche ritardo come succede spesso con le traduzioni delle guide in italiano quindi controllate insomma nei prossimi giorni però esiste è la traduzione di quella americana della prima games ok si sa nulla di una fantomatica ulteriore espansione di diablo 3 visto il finale di reaper of soul non si sa nulla io me l'aspettavo speravo in questo blitz con non è arrivata penso che ci sarà perché anche per diablo 2 sono arrivate due espansioni mi sembra ed eccoci di nuovo ragazzi è morto il server di parigi che non ci rispondeva più e adesso siamo su quello di amsterdam perché lì la gente si fa i cannoni e sono tutti più rilassati molto tranquilli quindi allora dunque ripartiamo un po dalla fine si sa nulla la fantomatica espansione diablo 3 è quello allora non so se si è sentita la risposta a mister debbie return che ci chiedeva di un ulteriore espansione di diablo 3 è abbastanza chiaro che si che in sviluppo che arriverà me l'aspettavo al blitz con purtroppo non è arrivata c'è la seconda stagione adesso quindi per qualche mese siamo siamo a posto far cry 4 favorire uno dei due leader del sentiero d'oro la scelta quanto influenzerà la storia del suo finale allora fraschi purtroppo non ti possiamo rispondere noi perché il gioco l'ha provato il nostro truffolo io ancora non l'ho cominciato e però insomma se magari vuoi postare questa domanda nel topic della recensione allora io mando alessandro a risponderti immediatamente io ti posso dire questo che sul finale non te lo so dire perché non ho ancora finito ti posso dire che però nel corso del gioco è molto bello il fatto che ogni volta che vai dall'uno dall'altro la missione che ti viene data è proprio diversa nelle meccaniche quindi questo poi favorisce anche molto la rigiocabilità ti conviene come sto facendo io se hai intenzione di supportarli un po' sì e no a seconda delle situazioni ti conviene poi segnarti cosa hai fatto la prima volta e poi magari rigiocartelo facendo altre scelte potrebbe essere una buona idea allora dark rayazan sì che saluto perché è nuovo e che dice appunto io domando e va via il video che sfiga no ma noi ti rispondiamo salve a tutti sono un appassionato di gdr quale mi consiglia anche action quale mi consigliate su playstation 4 beh allora action oddio lords of the fallen non è che abbia brillato come potrebbe aver brillato come ha brillato dark souls 2 però è arrivato appunto dragon age che stiamo qui a lodare sperticatamente quindi direi che su quello che con quello puoi andare molto molto sul sicuro quest'anno e farti tutta una bella stagione e poi magari invece all'inizio dell'anno prossimo potrebbe arrivare appunto cioè no arriverà purtroppo è stato rimandato a marzo bloodborne che comunque ha un tessuto una struttura gdr e forse si vocifera anche beh c'è anche c'è anche diablo che è un po diverso come filosofia però non dimentichiamo che c'è diablo 3 tra l'altro in una bella edizione con già tutta l'espansione e poi c'è dragon age che per quanto sia inquisition ben inteso che per quanto sia party based però può essere anche giocato come dicevamo prima in una forma quasi action quindi insomma hai una bella scelta per informarti su questi vari prodotti invece da evitare come la peste qual era quel action rpg bound by flame assoluto guarda stagli lontano perché è proprio la merda integrale fender fender stc ciao fender se scrivo complimenti per la trasmissione non prendete per il culo no non prendiamo per il culo grazie infinite anzi ti ringraziamo allora i mercatini si stanno affolando di destiny usato gente sui forum comincia a scrivere che ha deciso di uscire dal tunnel di destiny intanto in giro i server sono sempre pieni è prevedibile un calo fisiologico guarda è prevedibile un calo fisiologico la gente si sta un po stufando devo dire che ormai anch'io gioco una volta a settimana per fare il raid mi piace mi trovo bene oppure magari mi trovo come stasera faremo gli andrea se l'invito è sempre valido e andremo un po avanti per cercare di far fare il 30 a lui quindi insomma magari a volte mi trovo ad aiutare qualcuno però in effetti oggi dopo un paio di mesi la povertà di contenuti comincia a farsi sentire spero che il team abbia capito questa cosa capisca questa cosa e rimedi spero che bangi rimedi diversamente ci sarà un calo fisiologico e resteranno comunque i super appassionati che ci sono io ce ne ho ancora tanti però è evidente che rispetto al primo mese la gente stia un po mollando soprattutto chi l'ha preso come uno sparatutto comunque classico non è classico è molto vicino alla struttura di un mmo chi però l'ha voluto giocare senza appassionarsi diciamo al sistema di loot allora è normale che lo lasci come lascerebbe qualsiasi altro sparatutto e quindi sì ci sarà un calo comunque per rispondere però il futuro secondo me sarà sempre cioè il gioco sarà sempre supportato vediamo se nel corso di questo primo anno bangi riesce anche a far cambiare idea ai delusi mi date il link di un sito in cui ci sono tornei di fifa 15 per xbox 360 ora però il gen non lo so sul nostro forum ne organizzano però dovresti andare a vedere perché non so se fanno anche il gen io non giocando a calcio non sono molto informato se qualcuno della chat lo sa può condividere un link e via c'era una domanda di passerotto di prima che chiedeva se i 60 fps diventeranno uno standard a fine 2015 e se i programmatori sacrificheranno questo aspetto per pompare sempre di più la grafica parla ovviamente delle soprattutto cioè anzi solo dell'ambito console ma allora i 60 fps standard proprio a fine 2015 non lo so anche perché secondo me ci sono comunque delle tipologie di gioco dove gli sviluppatori magari preferiscono avere più dettaglio e rimanere sui 30 quindi secondo me non c'è da ritenere che per forza a fine 2015 ci giocheremo tutto a 60 fps ammesso che poi questo effettivamente su certi tipo di giochi possa veramente dare dei benefici che è ancora tutto da dimostrare il fatto che poi sacrifichino l'aspetto degli fps per pompare sempre di più la grafica beh in un certo senso sì è quello che stavo dicendo cioè in alcuni casi secondo me preferiscono avere una grafica più avanzata effettistica più avanzata che i 60 fps e secondo me in alcuni casi ci può anche stare allora intanto c'era lele che aveva fatto una domanda sul 2k e 4k e diceva secondo voi sul pc gaming effettivamente il 2k 4k aggiunge qualcosa o è una trovata di marketing ma allora io ho visto ho visto un giochi in 4k le ho anche provati ovviamente pc e su schermi consoni io personalmente non ci ho visto il futuro materializzato personalmente io sono uno che gioca 1080 tra l'altro tuttora sul mio pc anche perché per adesso il mio pc non mi permette di giocare più di 1080 quindi è anche un po gioco forza e non né nel tanto meno nel 2k perché lì la differenza rispetto al 1080 è ancora più contenuta ma comunque anche nel 4k sì sicuramente c'è una bella resa c'è questa definizione ottima però innanzitutto con il pc diventa un po un casino perché con il pc si gioca vicino per forza di cose perché hai mouse e tastiera quindi più di tanto lontano non potrai andare a meno che tu non utilizzi un pad e quindi conseguentemente hai questi monitor da massimo 24 pollici in 4k che onestamente non servono a nulla perché il 4k su una misura così piccola non ti dà assolutamente nulla se no devi giocare con il pad da lontano sui mega schermi a 50 e più pollici e allora effettivamente noti una differenza ed è un bello spettacolo però 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 con il costo che c'è adesso in giro è veramente una spesa assolutamente assurda per quello che si per quello che si ottiene quindi è un po presto secondo me allora alle caiane non voglio trollare ma riposto la domanda ho letto che microsoft fa provare domani per 24 ore sunset overdrive ma la prova gratuita vale per domani oppure vale da quando l'hai finito di scaricare perché se no ci metto due giorni per scaricarlo e non ha senso io penso che valga solo per domani che sia quindi purtroppo se non è una connessione abbastanza veloce per scaricarlo tutto penso che sia difficile fenderman ciao ragazzi quanto tempo secondo voi dovremmo aspettare prima che a francesco passi la tosse quando si accende il taxi al studio del caddio addirittura ad un fantomatico 3 so che non potete parlare ma sono tossire eppure parliamo di mesi e arriviamo all'anno beh la seconda delle cose per il fantomatico un anno anni anni abbondanti per l'altra tosse potrebbe passare un po prima spero eh spero prima un pochino sì un pochino più chiaro di così io non posso essere guardate il video sto facendo dei tipo gli amicchi della briscola ascolta no allora prima di passare ad altro io volevo fare a voi invece una domanda ragazzi a tutti quelli che ci stanno seguendo e a eh chi anche a chi non interviene ehm e però magari ci guarda noi i giochi appunto eh quelli grossi sono finiti o stanno per finire ehm quindi dalla settimana prossima dobbiamo decidere un attimino che cosa farvi vedere io avevo pensato vabbè al di là che faremo abbiamo già deciso che faremo una bella nottata su eh Advance Warfare faremo multiplayer probabilmente giocherà Andrea eh al di là del fatto che faremo magari qualche live un po' più cazzone tipo Just Dance mi sto attrezzando ho chiesto alla VR la parrucca di Just Dance però mi farebbe piacere sapere se voi avete qualche richiesta cioè se volete rivedere magari eh uno dei titoli che vi abbiamo già fatto vedere e magari facciamo una serie in cui lo giochiamo tutto non lo so Far Cry ora spero che non vogliate farmi giocare anche il single player di Call of Duty però Far Cry Unity magari possiamo fare una serie con un paio di ehm puntate a settimana e giocare tutta un'avventura quindi anche voi che ehm non intervenite solitamente scriveteci un po' e fateci sapere che cosa vorreste vedere ehm ci hanno dato la partnership violenta quindi quindi ballo della partnership è la prima partnership su un Q&A eh tra l'altro sì è la prima volta è la prima volta siamo molto contenti ed è tutto merito vostro bene ehm chi lo ha più lungo in questa chat non per bantarmi non credo di essere io ehm allora Framma il DLC di Mario Kart è Trufo l'ha fatto un po' in ritardo mi ha consegnato la recensione Christian Bomber ehm poche ore fa domattina alle 10 la trovi pubblicata ehm se volete una piccola l'anteprima su quello che ne pensa sappiate che gli ha dato otto e mezzo e dice il primo pacchetto di contenuti scaricabili dedicato a Mario Kart si dimostra un acquisto obbligatorio per tutti gli appassionati del franchise e che se spaventati da un prezzo non propriamente per più economici sul mercato potranno affidarsi ad un bundle che permette di scaricare anche il secondo pacchetto previsto per il prossimo maggio in questo caso il giocatore potrà godersi una quantità assolutamente apprezzabile di contenuti non vi spoilerò oltre domattina potete leggere la review poi c'è da vai albgt diceva nella lista dei best rpg del game awards 2014 hanno messo dark souls 2 e dragon age inquisition secondo voi qual è il migliore? allora è bello che tu lo chieda a noi perché ti daremo due risposte esattamente diverse io ti dirò che è dragon age inquisition e francesco ti dirà che è dark souls 2 questo perché metterli nello stesso questo perché lui è un nabbo no questo perché lui non capisce un cazzo allora no no il discorso è questo purtroppo purtroppo per quanto effettivamente anche dark souls 2 possa rientrare nella categoria degli rpg mettere qui due giochi nella stessa categoria è un casino cioè si finisce per valutarli mettere il suo stesso piano quando non lo sono neanche lontanamente cioè uno è un gioco individuale action è basato su altri tipi di meccaniche l'altro è un gioco party based con una storia complicatissima scelte morali cioè sono proprio come era il gioco no l'acqua e il vino sì sono l'acqua e il vino quindi ragazzi sono l'acqua e il vino metterli nella stessa categoria è una cagata Daniele in the meantime our users claims that they all love you and you are like our adoptive Italian watcher allora GTA 5 per Next Gen ci chiede Fraschi vale quello che la Rockstar l'ha fatto valere? sono soldi buttati via ma secondo me il pacchetto vale anche perché l'aggiunta contenutistica non contenutistica, l'aggiunta della visuale in prima persona comunque cambia abbastanza le cose e si sono viste altre riedizioni allo stesso prezzo in buona sostanza che invece avevano solo improvement grafici diciamo così miglioramenti grafici quindi ma direi che comunque sia è un'offerta buona certo che chi ha già giocato tutto GTA 5 può tranquillamente ma molto tranquillamente aspettarlo a prezzo ridotto Ray Phoenix ci chiede che cos'è la partnership allora la partnership temporanea è sostanzialmente sblocca la possibilità per voi utenti di impostare la qualità del video in modo da che questo si adatti alla vostra linea viene data da Twitch quando gli utenti sono tanti per questo non finiremo mai di ringraziarvi nella speranza che prima o poi ci diano quella definitiva so che sarà un dolore per voi non poter più assistere al ballo della partnership però insomma Paolo the best quando ho finito? fra una decina di minuti Paolo fra una decina di minuti o forse anche un po' prima se non arrivano altre domande ah Pedro 83 ho comprato giochi dal PSN store che poi Sony ha eliminato avendoli salvati anche in cartelle su PC posso inviare la cartella ad amici? riuscirebbero a giocarci? non penso penso che ci sia un controllo sempre sulla diciamo su chi possiede quel pacchetto Mr. Sandman si può giocare a Dark Souls 2 con la chitarra di Guitar Hero? sì c'è qualcuno che l'ha fatto e l'ha anche finito anzi mi sa che ha finito Dark Souls 1 con la chitarra di Guitar Hero dovresti fare una live ah vuole che lo faccia io? no io vorrei ok allora se non c'è Cage che dice che se c'è la partnership definitiva il ballo della partnership l'ha fatto ogni volta all'inizio oppure potremmo fare uno stream da un'ora in cui balliamo esatto il ballo della partnership ci sto ci sto così ce la levano subito immediato allora mi sembra che non ci siano altre domande abbiamo fatto una cinquantina di minuti vabbè aspettiamo chiedevo del free to play ah Fender sarà davvero il solo futuro del videogioco come previsto da alcuni e oggi? come siamo messi? ma allora secondo me no secondo me non è il vero futuro del videogioco io questa storia l'ho già sentita del free to play che diventerà il modo per veicolare tutti i giochi in futuro secondo me è un po' una cagata più che altro perché e dall'altra parte se permettete ci metto anche un po' di speranza mia che non sia così ma allo stesso tempo penso anche che sia un po' impossibile i giochi free to play necessariamente devono adattarsi al free to play cioè un gioco free to play non può essere qualunque tipo di gioco deve essere un tipo di gioco adattato alla formula free to play e deve avere all'interno delle meccaniche che permettano agli sviluppatori e al publisher di farci dei soldi con le microtransazioni questo poi impone anche alcune modifiche specifiche al gameplay perché la gente si è invogliata a comprare qualcosa quindi no sicuramente il fatto che ci siano microtransazioni all'interno di giochi invece venduti normalmente vedi Assassin's Creed Unity è uno degli esempi più recenti ma ce ne sono stati molti altri precedentemente è una cosa che vedremo sempre più spesso ma io non la trovo neanche di per sé invasiva ammesso che poi quello tipo non ti dia vantaggi nell'online o cose del genere li entriamo in un contesto diverso ma finché ti danno la possibilità di avere l'arma finale spendendo 10 euro ma fate un po' quello che volete cioè beh finché è scelta del consumatore ti possono offrire quello che vogliono e a me va benissimo tanto non li spendo è una libertà mia e siamo tutti contenti così quindi di per sé la microtransazione all'interno dei giochi a me non urta non la cago e stop e così dovrebbero fare coloro che non ne sono interessati i giochi free to play ce ne possono essere di internet molto interessanti ce ne sono di meno ci sono anche poi le macchinette mangiasoldi però intendo dire il fatto che tutti i giochi diventino così in futuro no e spero proprio di no quindi ecco questo è quanto Francesco è morto beh la cosa è bella che merda che merda ecco che merda gli hai risposto in due minuti e poi per i successivi cinque hai parlato sono d'accordo con te non penso che il free to play sia il futuro vedi come sono il dono della sintesi esatto Merlino89 che ce l'aveva chiesto prima scusa se l'ho saltata ci chiede non ho giocato a nessun LittleBigPlanet mi consigliereste l'ultimo guarda se hai la playstation 3 no prenditi il primo e sarà ancora molto bello riscoprirlo dal punto di vista della costruzione artistica della direzione artistica l'ultimo a livello di contenuti non è eccezionale c'è da dire che comunque nell'ultimo ci sono tutti i livelli però quelli creati dagli utenti dell'uno e del due mentre buona parte della qualità dipendeva anche da quelli creati da Media Molecule ma tipo una chiusura parlando della moda di cambiare voto e le recensioni ritoccandole in base a come si comportano le fate a me sembra un po' una cagata però un po' vi tocca fare i grafici come per l'andamento in borsa allora Cage non sempre è una cagata io sto seriamente valutando la possibilità insieme a Sergio di riscrivere un aggiornamento su Drive Club ad esempio certo se questo diventa una o una moda appunto per fare chiasso oppure un'abitudine anche di fronte a titoli in cui una semplice patch non varia l'esperienza complessiva ma porta delle piccole modifiche quello sì è abbastanza ridicolo però in alcuni casi in effetti soprattutto in quei casi in cui noi abbiamo fatto una recensione sulla base di una versione che magari girava su dei server particolari o che girava in un ambiente online simulato non in quello vero e poi c'è stato un calo qualitativo una volta che il titolo è arrivato sul mercato allora in certi casi lo posso anche capire e giustificare Paolo The Best farete una review di WWE 2K15 per Next Gen sì sta arrivando la leggerai probabilmente lunedì mattina Christian Bomber di un mafia per Next Gen che ne pensate? ma per me mafia io parlo anche un po' a titolo personale è un brand che ha un po' detto tutto onestamente non mi esalterebbe poi tantissimo l'idea proprio di un prosieguo di mafia ancora su Next Gen non lo so magari anche lì preferirei un po' qualcosa di nuovo onestamente ma se invece si tornasse ai livelli qualitativi del primo io lo direi allora sì cioè però mettiamolo fra parentesi mettiamolo fra parentesi e lasciamolo da una parte perché allora arrivo in ritardo Frank Frank Mackey ciao sto andando a prendere Dragon Age Inquisition per PC non mi faccio influenzare dagli utenti di Metacritic che lo stanno pesantemente insultando stile Dragon Age 2 no gli utenti di Metacritic ecco questa è la mia risposta lasciale fare gli utenti di Metacritic Metacritic gli utenti di Metacritic hanno sviluppato questa reazione di ritorno nei confronti dello strapotere del voto Metacritic per cui pensano di andare lì e influenzare cioè fare un torto diciamo magari alle software house o ai redattori o al potente facendo un attacco di combatti il potentosi come era sì e no lasciali fare fidati Dragon Age Inquisition è un ritorno bello forte non solo alla qualità delle origini della saga ma insomma anche una bella scossa per il genere secondo voi lo fanno Rogue su Next Gen ci chiede Fox Mulder non in tempi brevi è possibile visto che hanno portato su Next Gen anche Assassin's Creed 3 Freedom o è che si chiamava Freedom Cry no Liberation no Liberation Freedom Cry era il il DLC giusto giusto visto che ci hanno portato quello anche Unity potrebbe sì anche Rogue potrebbe subire un adattamento chi lo sa ma non presto scusate il mio amico con Xbox One manda l'amicizia ad un'altra persona ma dice che è stato aggiunto subito come amico ma il ragazzo è lui che risponde subito o lo fa la console da sola no in teoria la risposta è derogata esatto esatto Fox Mulder ma hanno recensito sui vari Dragon Age Inquisition e Far Cry 4 sì Dragon Age Inquisition si è preso un bel 9.3 in versione Next Gen ma solo un 7.5 in versione Old Gen per gravi problemi legati all'engine e alla stabilità del codice Far Cry 4 ha preso un 8 in versione Next Gen Danelli is asking if we are playing anything tomorrow I don't think so tomorrow is Saturday and we are enjoying our weekend we need it after such a full period but we'll be playing something next week we'll be playing Modern Warfare Advanced Warfare multiplayer player as we promised and maybe something else we have to if you have any game that you want us to play just ask and we'll try to and try to stream it tra l'altro anche voi ragazzi se volete vedere qualche stream in particolare magari di qualche gioco che abbiamo dimenticato nelle ultime settimane fatecelo sapere qualcuno proponeva la patch MMO di Goat Simulator ma insomma si potrebbe sicuramente settimana prossima faccio venire Truffolo da te e fate WWE quello sicuramente quello sicuro secondo voi Godzilla passerotto che chiede di Godzilla su PS3 beh ragazzi c'è una video anteprima con un intro di Francesco fantastica è fantastica sì 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 comunque è una porcheria schifosissima passerotto è una porcheria mondiale mondiale allora secondo voi Warlords of Draenor vale l'acquisto e le spese di abbonamento per World of Warcraft se sei un appassionato di vecchia data potrebbe valere l'acquisto e il ritorno sui serve perché sembra veramente un'espansione figa ai livelli di The Burning Crusade che fra l'altro è quella più amata dai giocatori qui si ritorna nella stessa ambientazione ma prima che succedano i disastri che poi l'hanno portata ad essere brulla e disabitata come c'era appunto in The Burning Crusade e c'è un sacco di roba nuova fra cui un sistema di housing molto particolare sta piacendo moltissimo a tutti gli utenti quindi direi di sì se devi cominciare con questo oddio nonostante la presenza di tantissimi giocatori non è forse World of Warcraft no abbiamo perso Francesco no sei tornato sei tornato hai avuto un attimo di stop ok spero si sia capito comunque la risposta di World of Warcraft direi che si capito faranno mai un The Legend of Zelda Next Gen ci chiede pure di Melograno sinceramente l'ultimo mi ha deluso molto beh sì è in sviluppo è stato annunciato allo scorso 3 si è visto anche qualche scorcio veramente fantastico dal punto di vista del dell'art design della direzione artistica quindi noi ci speriamo tanto però ancora le informazioni sono molto molto poche Reaper of Kale voto Far Cry per All Gen chiede Paolo The Best non l'abbiamo ancora provato quindi cercheremo di farlo il prima possibile controlla insomma l'home page nelle prossime settimane che sicuramente cercheremo di arrivare con una recensione appena ci danno a disposizione la copia stiamo cercando di fare anche la review di Shadow of Mordor in versione All Gen che è uscito proprio di recente Reaper of Kale passa per i saluti Andrea complimenti per la maglietta che maglietta hai? quella di Avriai ovviamente ah ottimo wait did I have drunk stream already? no we didn't non abbiamo fatto ancora il drunk stream potrebbe essere uno stream per la per una serata della prossima settimana esatto drunk stream on GTA 5 it will probably come next week ragazzi bene ragazzi io direi che abbiamo fatto abbiamo fatto grazie mille come sempre per tutte le domande per esserci stati in tanti per la partnership per tutto quanto controllate il canale qua sotto beh se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così ricevete gli update ogni volta che andiamo online ma controllatelo qua sotto lunedì insomma verso l'ora di pranzo che ci sarà sicuramente annunciato almeno il primo live della prossima settimana ragazzi e anche controllate l'home page di every eye dato che anche lì diamo sempre notizia abbondantemente dei prossimi live bene io stasera vado a fare una cosa un po' strana che si chiama aperinsetto vado a assaggiare gli insetti fritti sono molto eccitato eh oh Andre va fatta sta roba seguiranno seguirà abbondante documentazione fotostatica che potrete trovare sulla mia pagina facebook chiedetemi l'amicizia se ancora non ce l'avete io te la levo guarda per l'occasione che sono fobico degli insetti quindi via tac siamo più amici su facebook ti blocco ragazzi grazie ancora cuori viola che vi sto spammando anche in chat e ci vediamo la settimana prossima passate un buon fine settimana un abbraccio a tutti siate fantastici la miglior community che si potrebbe sperare di avere baci baci a tutti ragazzi ciao e buon weekend e non mangiate gli insetti fritti che fanno male